Drip Reservoir, grandi guys, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere la pool di liquidità di Drip Network, come dare una mano alla community, dare una mano a Drip con questa pool di liquidità. Ma prima che passiamo sul desktop, non sono un consulente finanziario, tutto quello che vedete in questo video sul mio canale non è da ritenere come consiglio di investimento, usate sempre la vostra due diligence. Non sono consigli finanziari, video sullo scopo di intrattenimento, piano piano mi sto abituando a dirlo sempre più veloce, usate la vostra due diligence, mi raccomando, passiamo sul desktop. Ed eccoci qua sulla nostra mega bellissima schermata di Drip Network che prima o poi cambierà sempre di più. Allora, andiamo a vedere questo reservoir che cos'è. Allora, io qua ho già messo dello stake, allora parliamoci un attimino di che cos'è e come funziona. Allora, il reservoir è un pool di liquidità, quindi noi mettendo dei soldi, mettendo dei drip che poi si trasformeranno in drops, quindi la moneta da BNB cambierà a drops, infatti qua noi inseriremo i nostri BNB qualora si volesse mettere dei in stake e riceveremo dei drops. Come vedete qua io ho messo 0,1 BNB che equivale a circa 27-29 dollari e ho ricevuto 0,009 drops. Con questi drops potete guadagnarne altre, ma come funziona? Funziona che vi danno una percentuale, la percentuale di preciso non l'ho ancora capita, non so come funziona, ma vi danno una percentuale dei vostri drops. Io per esempio ce l'ho in stake da tre giorni circa e non mi hanno ancora dato nessuna rewards, per esempio ecco qua, ovviamente perché io ne ho messi veramente pochi, ho messo 27 dollari. Allora, di drops, allora noi ne abbiamo, attualmente ne abbiamo veramente veramente pochi perché mi è rimasto ancora qualcosetta, ma non ho le percentuali. L'unico modo per vedere la percentuale, io ho quest'app qua, vi finisco poi anche di parlare di come funziona. Allora, l'unica cosa io ho messo, eccolo qua, vi fa vedere. Sì, io ho messo 27 dollari, le rewards sono 0,00026, sono 7 centesimi in tre giorni. Diciamo che qui stiamo parlando di un investimento a lungo, lungo termine. Allora, io ho messo un poco, veramente poco, ci credo in drip, ci metterò altro in futuro, certo. Infatti, come vedete qua sotto, i players sono 8,000 solo, sono veramente veramente poche persone rispetto al più di 100,000 che ci sono nel Fawcett. Qual è la differenza tra il Fawcett e il Reservoir? Ovviamente il Fawcett vi dà l'1% al giorno, il Reservoir ve ne dà veramente poco, se parliamo dello 0,01, 0,03, 0,5, veramente veramente vi dà pochissimo. Adesso in tre giorni ho guadagnato 7 centesimi su 27 dollari e veramente, ecco lo 0,001 dello stake, in questo caso, è veramente veramente poco, poco. Però, diciamo che a lungo termine, se vogliamo mettere, io ci metterò ancora qualcosa ma non ci metterò tantissimo, a lungo termine si possono vedere i risultati. La differenza, come dicevo dal Fawcett al Reservoir, che qua potete togliere in qualsiasi momento i vostri drops, quindi non c'è un limite, non c'è un vincolo di tempo di lasciarli, nel senso, se oggi volete prelevarli pagate solo il 10% di tasse, quindi sia a metterli, quindi sia quando andate a fare gli investimenti, pagate il 10% di tasse, sia quando gli andate a togliere. La differenza del Fawcett è che quando andate a fare Compound, quindi questo qua sotto, vi prende solo le Gas Fee, quindi non andremo a pagare il 5% come paghiamo nel Fawcett. Quando invece andremo a fare Claim pagheremo il 10%, scusate se ho sbagliato, quando andiamo a fare Claim pagherete solo le Gas Fee, invece quando andiamo a fare Withdraw di tutti i nostri drops pagheremo il 10%. Precisamente questo è un modo per aiutare la community, per aiutare Drip, tutti gli investitori e mantenere il prezzo di Drip, che questo è fondamentale. Quindi il reservoir serve come pool di liquidità, mettere dei liquidi per mantenere il prezzo di Drip stabile. Ovviamente fate sempre le vostre valutazioni, in totale ci sono 86 drop in stake, in totale di 6134 BNB e della quale diciamo che la mia valutazione è questa. Il reservoir cosa lo uso? Lo uso per tenere un pochino in stake a lungo termine fino a quando mi va e poi quello che prelevo facendo Claim pagando solo le Gas Fee le utilizzo per pagare le Gas Fee anche del Drip di Fawcett quando faccio il compounding oppure vado a ritirarle. Intanto qua posso fare poi un compounding oppure ritirarle nel mentre, io voglio parlarvi proprio in generale, mi auguro di aver detto tutto, sto creando un pochino di video in questa guida. Mi auguro che comunque sia ben chiaro se avete domande o dubbi qua nei commenti ben volentieri, adesso me lo sto riguardando ancora, sto soprattutto facendo dei test perché ho letto tante guide ma io sto testando. Prima di tutto a me piace testare prima di portarlo sul canale, quindi lo sto provando, vi dirò nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, tanto porterò altri video. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto, in descrizione trovi tutti i miei link. Un bel like fa sempre piacere, se avete domande o dubbi o commenti oppure Telegram, noi ci vediamo al prossimo video, grandi guys!